Fortunatamente il muflone non ha subito il crudele destino della foca monaca. Grazie alla sua particolare adattabilità ai più diversi ambienti dell'isola è riuscito a sopravvivere e riprodursi riconquistando parte dei suoi territori originari. Un tempo i mufloni erano presenti ovunque in Sardegna. Migliaia di esemplari popolavano fino ai primi decenni del secolo scorso ogni zona montuosa. La caccia indiscriminata li aveva inesorabilmente condotti alla soglia dell'estinzione ma negli ultimi anni il muflone è stato reintrodotto con successo in varie parti dell'isola. Monte Genis, rilievo del Sarrabus Gerrei, è un territorio dove rossi e monumentali graniti svettano tra la fitta macchia boschiva. Questo massiccio ha le caratteristiche tipiche dei territori più interni della Sardegna. Una coppia solitaria di mufloni percorre i sentieri tracciati tra la macchia intricata e i graniti. In questo palcoscenico naturale isolato e silenzioso la coppia dà inizio al rituale del corteggiamento. Il maschio, agile e veloce, si esibisce saltando tra i graniti con sorprendente abilità. Si volta ripetutamente a osservare la femmina che impegnata nel brucare non sembra essere particolarmente impressionata dalle acrobazie del compagno, ma egli è paziente e ripeterà per ore il cerimoniale. Nel tempo questo comportamento rafforzerà il legame che unisce la coppia. Il muflone è sempre stato una preda particolarmente ambita dall'uomo che l'ha cacciato oltre che per le sue carni anche per il magnifico trofeo costituito dalle sue imponenti corna. In diverse località dell'isola si riteneva che le corna avessero grandi proprietà terapeutiche. Toccando la parte malata con il corno durante la luna piena si guariva dal mal di pancia e dal mal di testa. Ma è stata soprattutto la caccia con le armi da fuoco che per oltre due secoli ha fatto strage di questi animali fino alla quasi estinzione della specie. I loro habitat sono stati invasi dal bestiame domestico e gli incendi hanno ridotto in maniera sensibile le zone di pascolo. Tutto ciò ha costretto i mufloni superstiti a rifugiarsi nelle zone più impervie e inaccessibili e fuggire il più possibile il contatto con l'uomo. Oggi, nonostante sia stato annoverato tra gli animali protetti fin dal 1939, il muflone è ancora vittima di qualche episodio di bracconaggio. L'opinione degli studiosi non è concorde nello stabilire l'origine del muflone. Alcuni affermano che la specie abbia avuto origine da pecore domestiche allevate dai primi gruppi umani che colonizzarono l'Europa e poi rinselvatichite. Un'altra ipotesi è quella che si sia evoluto in Asia e con le glaciazioni e la formazione di ponti naturali si sia diffuso in Europa, nel continente americano e nel massiccio sardo corso. Il ripetersi delle glaciazioni determinò in Europa l'estinzione del genere Ovis, sopravvisse solo in Corsica e Sardegna, dando origine a una forma endemica di dimensioni ridotte. Il muflone ha una corporatura media, forte e robusta. La sua morfologia ricorda molto quella della pecora domestica, ma è molto più slanciato e aggraziato nei movimenti. In estate la pelliccia assume un colore più chiaro, con il pelo più corto e rado rispetto al folto mantello invernale bruno rossastro. Le parti inferiori delle zampe, il ventre e il muso, sono bianchi. Nella maggior parte dei maschi, in inverno, compaiono sui fianchi evidenti macchie bianche chiamate selle. Le corna sono l'elemento più affascinante del muflone. A differenza dei palchi, del cervo e del taino, non si rinnovano ogni anno, ma si sviluppano e crescono per tutto il corso della vita, fino a raggiungere imponenti dimensioni. L'età del muflone maschio si può stabilire con buona approssimazione, contando i segni ad anello sulle corna chiamati cerchi annuali. Le corna sono sempre presenti nei maschi, mentre nelle femmine sono del tutto assenti. Non è così per le mufle che vivono in Corsica, oltre la metà di esse possiede piccole corna simili a quelle dei maschi più giovani. La vista del muflone è particolarmente sviluppata. Può scorgere un uomo fino a un chilometro di distanza e dall'alto delle rocce ne controlla i movimenti e non perde il contatto visivo con l'intruso. In caso di pericolo scatta fulmineo e raggiunge in brevissimo tempo una velocità di circa 60 km orari. La femmina è più veloce del maschio adulto, appesantito dalle grandi corna che non gli impediscono tuttavia di spiccare salti davvero sorprendenti. Le ore della giornata sono in gran parte dedicate alla ricerca di cibo, costituito prevalentemente da corbezzolo, cisto, citiso, piante aromatiche e fiori. Il muflone di natura stanziale preferisce non spostarsi dal proprio territorio se non costretto dalla mancanza di cibo, ma è soprattutto l'acqua che durante il periodo estivo scarseggia in gran parte dell'isola.